Eeeh, tanta roba, ci vuole un drone qua Sono arrivati Yuri e Fede St'errato, vediamo cosa ci fanno fare Sono curioso Saluta Yuri Monocilindrico, bellissimo come sono Sullo sconnesso, il KTM, secondo me, è un asset molto stradale Mi ballano persino i denti Ha seduto La natura, ma quanto è bella Quanto è bella la natura Che freddino Occhio Buurlazù Deve che non cagare in modo Che fai una corda, guardate solo visto Che montano solo per te spiegami Sono le pre Alpi biellesi Che fai Pre Alpi biellesi Distanziati Basta stare distanziati Nooo Merda Nooo No, non si passa Addirittura Buona, buona, buona Sì Vai Vai, vai Non ti preoccupare Ok Eh sì Che coglioni Che coglioni Ok Dovrei riuscirci, no? Che fatica Che fatica Beta Appacco Mi sto cuocendo Grazie Grazie Ma Cia Ciao, Paolo Ciao Paolo Ha qui Perché Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.